Buongiorno e benvenuti in questa ultima settimana del mese di marzo, dal 25 al 31. Chi ci accompagnerà è il 2 di denari. Ora che lo stavo dicendo mi sembra che il 31 cambi l'ora, non vorrei sbagliarmi, quindi vabbè, andate a controllare, però mi sembra di aver letto così. Sarebbe stato bellissimo se fosse uscita una carta a indicare il tempo, ma no, abbiamo il 2 di denari e quindi cerchiamo di capire dove ci porta e cosa ci vuole dire. Fondamentalmente la prima cosa che mi sento di consigliare, soprattutto in campo umano, è quello di andare ad equilibrare quelle che sono le tue relazioni. Che cosa significa? Beh, come tutte le relazioni c'è d'amore, di lavoro, d'amicizia, familiari. A volte dobbiamo andare un po' al pit stop, dobbiamo fermarci un attimo, dobbiamo ricontrollarle, ma il problema è che se non ci mettiamo di santa lena a gestire materialmente e quello che non sta andando o potrebbe andare meglio della relazione, nulla accade. E d'altronde quando siamo lanciati su un percorso, se noi continuiamo a mandarlo avanti senza cambiare le premesse, otteniamo i medesimi risultati. E il 2 di denari è qui a dirti, va bene che devi bilanciare le tue esigenze personali con quelle del partner, però trova anche un terreno comune in grado di soddisfare entrambi, altrimenti diventa un gioco a perdere per tutti. E rimanendo su questa scia e trasferendoci su una parte forse più pratica, materiale o lavorativa, ecco che ti dico di gestire le risorse in modo un pochettino più saggio. Questo soprattutto se ultimamente non l'hai fatto per bene o ci sono stati dei problemi nel modo in cui hai gestito le tue risorse. Quindi magari cerca di bilanciare le tue energie tra le responsabilità, i progetti, il tempo. Come vedi io non sto necessariamente facendo riferimento a risparmi ai soldi o risparmi a qualcosa, è proprio un bilanciamento sulle varie sfere della vita. Infatti io vedo molto il 2 di denari con questo gesto qui, come a dire bilanciamo. Rimani comunque flessibile, aperto a tutte le nuove soluzioni, soprattutto se sono in ambito pratico, probabilmente il 2. Siamo ancora in un ambito di studio, di gestazione, ancora devi vedere come avviare il tuo progetto, ma la flessibilità e l'apertura mentale ti aiuteranno a non subordinare quelle che sono le tue priorità ai tuoi progetti, alle tue idee. Insomma si tratta di trovare il giusto equilibrio per ogni sfera della vita, per quanto pratica questa possa essere. E a proposito di bilanciamento, ecco che voglio darti anche il consiglio di bilanciare l'attività con il riposo. Questo significa che va benissimo lanciarti all'interno di un discorso in cui vai ad allenare il corpo, ma cerca anche di nutrire la mente. Va benissimo stare in palestra o andare a correre all'esterno, ma cerca anche di far allenare il tuo interiore. Esercizio fisico, meditazione. Insomma, a quell'energia attiva cerca comunque di farne inseguire una più ricettiva e viceversa, sempre in questo tentativo di far bilanciare i vari aspetti della vita. Appunto, come posso equilibrare le varie sfere della mia vita risulta essere il quesito che nel bene o nel male mette insieme tutti questi concetti. Ed è proprio su questa domanda che voglio lavorare nella settimana corrente. Per favore personalizza il due di denari. Come? Beh, se proprio ti risuona tutto quello che sto dicendo, cerca di scoprire qualche significato in più, puoi andare sul mio blog tarocchi.blog a vederlo. Altrimenti estrai anche tu direttamente un arcano della settimana e cerca di capire come si adatta alle tue frequenze o alle tue energie. A proposito, domani, sempre su questo canale, arriverà la risposta a questa domanda come posso equilibrare le sfere della mia vita. Quindi iscriviti al canale per essere avvisato dell'uscita del video.